Senta, me lo dice un suo pregio? Sono una donna molto paziente e generosa. Un difetto? So essere molto stronza quando ci vuole. Mi fa un esempio, una bella belvada che ha fatto. Ma io di solito... Una volta che è stata allora molto stronza come si dice... Vabbè, una cosa tante anni fa è successa, ho buttato giù un quadro da una finestra di un mio ex fidanzato. Ma in testa? No, no, in testa no. Io non sono per la violenza. Ma un quadro dipinto da fidanzato? No, no, un quadro che aveva una cosa, un quadro che neanche mi piaceva, che stava a casa mia, l'ho buttato dalla finestra. Tutto qua? Eh sì, poi altre cose magari non si possono dire. Va bene, dica una. Questa è deludente. Non è deludente, no, non posso. Non sono cattiva, insomma, mi piace che le cose accadano da sola. Allora non era vero quel difetto che ha detto, che era molto stronza se volete? No, però sono una che ama. Quando una persona si comporta molto poco bene con me, mi piace che poi non abbia la vita così erosea, insomma. E' innamorata adesso? Così. Diciamo che l'amore fa sempre parte della mia vita, insomma, è il carburante della vita. Sì, ma no quello cosmico. No, quello cosmico. Sto bene. E' innamorata. Sto bene. C'è una persona, la sua vita non è più singola. Guardi, no, io la mia vita privata, devo rimanere privata. Eh, ha sbagliato il programma. Eh sì, perché se ne sono dette di tutti i colori e soprattutto non se ne può più. Al giornalista Dario Martese ha detto, l'amore è un lavoro non retribuito. Bisogna impegnarsi e non aspettarsi che gli altri ci amino nello stesso modo in cui amiamo noi. Lei è stata più amata o ha più amato? Io ho amato molto di più di quanto sono stata amata. Me ne accorgo sempre troppo tardi, però quando me ne accorgo riesco a chiudere. E ha fatto bene o ha fatto male? Ho fatto bene. E' bello vivere l'amore intensamente. Peccato per chi non ci riesce. Quando ci siamo sentite, lei mi ha detto che non aveva piacere a parlare dei suoi ex, dei due più famosi, insomma, Gianni Spetti e Razz Degann. Infatti vedo che lei mantiene la promessa. Io infatti l'ho promesso che gli avrei detto, che gli avrei chiesto comunque. E non mi dica perché se ne è parlato troppo, mi dica perché non ha piacere a parlarne. Perché se ne è parlato troppo, non so chi dirle. Senta, allora lei ha detto... E poi ho già detto un sacco di cose. Vabbè, vediamo, magari ne diciamo qualcos'altro. Breve, sarà breve. Lei ha detto che alla fine della fiera sia Gianni che Razz con me si sono dimostrati nello stesso modo. Nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrare la loro vera natura. Cioè? Questo. E' una donna intelligente, lei potrà capire quello che volevo dire, no? Che non sono stati leali. Quando lei dice questa cosa intende tradimenti o intende altro? Intendo tutto. Anche tradimenti. E a me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno sfigato. glielo posso dire. Cioè uno soprattutto che si dichiara libero, che si dichiara totalmente indipendente e tradisce. Non hai il coraggio di dire che hai voglia d'altro. Allora puoi fare quello che vuoi, ma se non hai il coraggio di dimostrarti per quello che sei, mi scende la catena. Comunque Razzo de Cane ha detto che comunque lei è stato l'amore più grande della sua vita e che il ricordo di lei se lo porterà fino nella tomba. Quindi le ha fatto piacere o anche chi se ne frega? Sono fatti i miei. Come direbbero? Allora lei ha detto... No, sinceramente... Non mi fregne. No, non ci credo neanche. Ok.